Questo è il problema americale degli stessi, un'amministrazione di vedere intorno e capire il suo colore perché sarebbe un colore molto particolare. La vera è difficile, normalista e male sentita, quando mettevo nella stessa un pesame che mi piaccio, la vera è difficile indicare la vera è difficile, perché è curiosa la vera è difficile, perché è felice, ma non voglio più dividere, ma non voglio dividere, perché è felice. Oh, yeah! Oh, yeah!